Mauro Moretti tornerà a processo anche per l'accusa di omicidio colposo plurimo. Gli altri imputati no, lui sì. L'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, infatti, è stato l'unico imputato che ha rinunciato alla prescrizione. Nei suoi confronti, quindi, resta in piedi anche il reato dichiarato prescritto, dopo il mancato riconoscimento dell'aggravante dell'infortunio sul lavoro. Nel processo di appello bis che si aprirà presso la Corte di Firenze, Moretti dovrà quindi rispondere di omicidio colposo non più aggravato e disastro ferroviario, mentre alle altre quattro persone per le quali la Cassazione ha disposto l'annullamento con rinvio, verrà contestato solo il disastro. Le condanne per disastro ferroviario, in ogni caso, con la pronuncia della Cassazione, sono divenute irrevocabili. In appello andranno soltanto rideterminate le pene. Avevamo capito che Moretti aveva rinunciato alla prescrizione solo per l'incendio e le lesioni colpose. Ma leggendo il dispositivo della Cassazione, ha spiegato Tiziano Nicoletti, uno dei legali dei parenti delle vittime, si capisce che l'ingegner Moretti ha rinunciato, a differenza degli altri imputati, anche alla prescrizione per omicidio colposo plurimo. Quindi, per quanto riguarda l'imputato ingegner Moretti, si torna davanti alla Corte di Appello di Firenze, anche per l'imputazione di omicidio colposo plurimo, non aggravato ovviamente, essendo caduta l'aggravante.